Buongiorno a tutti, allora Delia, io non riesco a capire come mai ti hanno bocciato all'esame del patentino per il ciclo di cuore, ma avevi studiato? Sì, bravo, ho studiato, ma vediamo un attimino di ripassare qualcosina, allora, siamo al semafolo, abbiamo tre colori, abbiamo il giallo, come ti comporti? E passo, passi ma stai attenta? Poi abbiamo il rosso, cosa fai? Passo, passi con rosso, ma si può passare con rosso? No, ti devi fermare, dai dai, vediamo un pochino Abbiamo il verde, cosa fai con il semafolo verde? Ti fermo, adesso capisco perché ti hanno bocciato